Nell'ultimo anno e mezzo sono accaduti tre eventi che mi hanno portato a riflettere su qualcosa che avevo lasciato lì, in un cassetto, forse per troppo tempo. Il primo è stata la scomparsa di una persona che per me ha significato tantissimo. La mia terapeuta, la persona che mi ha accompagnato in quel viaggio che vi ho raccontato tante volte e che mi ha permesso di uscire da un momento davvero brutto della mia esistenza. Senza il percorso fatto con lei probabilmente non sarei riuscito a laurearmi, a costruire tutto questo, a mantenere la relazione con quella che oggi è mia moglie, ad essere felice. Quando lei è mancata ho sentito un vuoto e al tempo stesso anche una spinta ad approfondire ancora di più quella conoscenza di me stesso verso cui lei mi aveva indirizzato. Il secondo evento è stata la visione di un video su YouTube. Manuel Cuni, Immanuel Casto, il performer, attivista e presidente del Mensa, ha pubblicato circa sei mesi fa un video intitolato Storia delle mie neurodivergenze, esperienze e diagnosi. La prima cosa che facevo in qualsiasi luogo in cui io mi trovassi era capire, identificare subito il luogo, uno stanzino in cui io potessi scappare il prima possibile per giocare a pensare. Ecco, quel video mi ha colpito davvero, non solo per il coraggio e per la chiarezza con cui Manuel ha condiviso il suo percorso, ma anche perché alcune delle cose che ha raccontato e descritto in quel video mi sembrava di conoscerle da vicino, tanto da vicino. E infine la terza spinta, per così dire, è stata una chiacchierata a cui anche voi avete assistito, la famosa analisi del mio stile di vita da parte di Valerio Rosso. In quell'ora e più, e poi anche a telecamere spente, Valerio mi ha portato a riflettere su alcune peculiarità del mio modo di vivere e di pensare e mi ha fatto venire voglia di indagare su di me con gli strumenti a disposizione di chi studia le neurodivergenze. Ripeto, non voglio farti una diagnosi selvaggia di ADHD, però lo sospetto c'è, bisognerebbe approfondirlo, ci sono dei test, delle cose eccetera. Però sarebbe anche un contenuto interessante fare il test di ADHD e vedere se ciò non ce l'ho, in che modo. E così è cominciata. Diciamoci la verità, ho sempre saputo di avere un carattere, un'attitudine, delle difficoltà e delle caratteristiche non comuni, ecco diciamo così. È una consapevolezza questa che mi accompagna fin da quando ero un bambino. Ma pensando e ripensando a questi tre eventi degli ultimi 18 mesi, alla fine mi sono detto è il momento di mettere ordine in tante cose che ho vissuto, in tante stranezze che mi contraddistinguono e che si sono rivelate a volte degli ostacoli e altre volte delle risorse. Ho deciso così di intraprendere un percorso diagnostico affiancato da una professionista esperta di questo campo. Da alcune settimane ho avuto i risultati di quel percorso e devo dirvi la verità, non mi hanno sorpreso. Ma lì per lì mi hanno lasciato addosso una strana sensazione, un po' come se avessi finalmente guardato in faccia qualcosa che avevo sempre preferito non affrontare, qualcosa di me di cui avevo paura. Ci ho messo un po' a metabolizzarlo, ma alla fine ho deciso di prendere questa occasione e trasformarla in uno spunto divulgativo e di condivisione, per raccontare qualcosa che potrebbe essere utile a chi magari ha dovuto affrontare emozioni e situazioni simili a quelle che ho affrontato io, o lo sta facendo proprio adesso e si sente spaesato o spaesata. Per lasciarvi il messaggio che tutti, chi più chi meno, abbiamo delle difficoltà, ma non dobbiamo identificarci troppo con esse, piuttosto dobbiamo capirle, accettarle e poi lavorare per tirare fuori il meglio che abbiamo da offrire. Facciamo un piccolo passo indietro. In questo video finora ho usato già due volte la parola neurodivergenza, tre se consideriamo il titolo. Ora, questo non è un contenuto scientifico e divulgativo sul tema, ma almeno questa espressione va spiegata, per forza. Che cosa significa neurodivergenza o neurodiversità? Il termine neurodiversità sta a indicare la naturale variabilità della mente umana in riferimento alle funzioni cognitive e ad altre funzioni mentali, come quelle relative alla socialità, all'apprendimento, all'attenzione e all'umore. La visione ha avuto origine in particolare all'interno del Movimento per i diritti delle persone autistiche, come risposta ad un approccio esclusivamente medico, che considera i cosiddetti disturbi del neurosviluppo come intrinsecamente patologici. In particolare, il concetto di neurodiversità si appoggia sul modello sociale della disabilità, secondo il quale la disabilità sarebbe appunto il risultato dell'interazione tra le barriere sociali e le differenze individuali, piuttosto che il prodotto di deficit intrinseci al singolo individuo. In sostanza, rientrano nelle neurodivergenze tutti i disturbi del neurosviluppo, i disturbi specifici dell'apprendimento e altre caratteristiche cognitive e di personalità non conformi. Non è scorretto dal punto di vista medico e scientifico categorizzare queste come condizioni problematiche, patologiche, disturbi appunto, ma la denominazione neurodivergenze vuole mettere l'accento sul fatto che spesso queste condizioni, a maggior ragione nelle loro manifestazioni meno estreme, più che dare problemi di per sé, danno problemi in relazione ad un contesto sociale e ambientale poco inclusivo e creato esclusivamente a misura di persone neurotipiche. Spesso, in pratica, le persone neurodivergenti hanno più che altro problemi di adattamento, si ritrovano immersi e immerse in contesti in cui il loro modo di essere e di pensare si scontra con una realtà che è poco adatta a loro. Il mio percorso diagnostico è iniziato con un lungo colloquio con la psicologa specializzata, con cui tra l'altro mi sono trovato benissimo. Circa tre ore, in una parte del quale ha partecipato anche Alessia, mia moglie, perché su queste tematiche gli sguardi esterni di chi ti conosce bene sono fondamentali. Immaginatevi una conversazione simile a quella che ho avuto davanti alla telecamera con Valerio Rosso, ma molto più dettagliata, più personale, intima e anche approfondita sulla mia vita, i miei pensieri, la mia infanzia e le mie esperienze passate e presenti. Fatto questo colloquio, è emerso in maniera evidente per la psicologa che il mio profilo presentasse una neurodivergenza. Ma quale? Beh, dopo il famoso video con Valerio, io un'idea me l'ero fatta. ADHD, disturbo da deficit dell'attenzione. E così ho fatto un primo test, bello lungo pure quello, proprio sulla ADHD. Ma i risultati... Beh, alcune cose sembravano tornare, ma le caratteristiche emerse nel test puntavano in una direzione differente. E così ho fatto un secondo test su un'altra neurodivergenza e qui il quadro ha cominciato a chiarirsi. Ho fatto poi un altro colloquio, poi un terzo test ancora più approfondito e poi c'è stata una lunga conversazione tra la psicologa e mia madre, una sorta di indagine sulla mia infanzia. Poi un test dell'intelligenza, il famoso Vice 4, su cui uscirà un video dedicato. Ed eccoci qui. La mia diagnosi è quella di autismo di livello 1. Quello che in versioni precedenti del DSM, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, veniva definito autismo ad alto funzionamento o sindrome di Asperger. Ad oggi Asperger e alto funzionamento non si usano più come espressioni, anche se esistono controversie in merito e alcuni esperti ancora le preferiscono come definizioni. E si preferisce indicare invece il livello di supporto richiesto per la persona autistica. Nel mio caso il livello 1 è quello con il minor livello di supporto richiesto, la versione più lieve, possiamo dire così. Vale a dire che la persona non presenta deficit cognitivi e di intelligenza e riesce ad essere funzionale e a cavarsela, anche se può passare dei momenti difficili ed è probabile che necessiti di percorsi di psicoterapia e di un aiuto, un sostegno pratico in varie aree, tra cui la socialità, il percorso scolastico e tante altre. E quindi sì, sono autistico, cosa che, ripeto, non è che mi abbia sorpreso, ma devo ammettere che lì per lì mi ha fatto provare una sensazione di disagio. Ci ho messo un po' a riuscire a dire questa cosa ad alta voce, ad esempio, ed è così che mi sono reso conto di quanto lo stigma sociale verso la neurodiversità sia radicato anche in me stesso. La parola autismo mi faceva paura. È solo una parola, io sono sempre io, non è cambiato niente. Eppure per questo è così importante parlarne. Per questo ne sto parlando qui. Perché finché avremo paura, vergogna, sospetto, rabbia o rifiuto della diversità e delle forme che assume, non riusciremo mai a costruire un mondo realmente inclusivo. Come si manifesta e si è manifestato l'autismo nella mia vita? Prima di raccontarvelo nel dettaglio, fatemi dire una cosa, anzi due. La mia è stata una vita bella, fortunata, privilegiata, soddisfacente. In particolare, negli ultimi dieci anni posso dire che ogni anno è stato l'anno migliore della mia vita. Mi raccomando quindi che non vi passi neanche per la testa l'idea che io mi stia lamentando o autocompatendo o che al contrario io stia cercando punti social. Perché non è così e detesto chi si comporta in questo modo. La neurodivergenza non è un vanto e non è una vergogna. È e basta. La seconda cosa che voglio dirvi è che la scelta di raccontare cosa ha significato finora e cosa significa ad oggi per me essere autistico non è un invito a fare autodiagnosi o a cercare per forza di riconoscervi nei miei comportamenti. Ascoltatemi con attenzione. Non vi sto fornendo un elenco di voci da spuntare per capire se capita anche voi di... No, assolutamente no. Le diagnosi si fanno con i professionisti e con i percorsi medici, non guardando dei video online. Un video online può essere la scintilla da cui parte un percorso di approfondimento, questo sì, ma niente di più. Cercare conferme ai propri dubbi nelle esperienze degli altri può essere dannoso e può darci convinzioni sbagliate basate sulla suggestione. Se volete approfondire una potenziale neurodivergenza, rivolgetevi ad un medico competente, come ho fatto io. Quindi prendete tutto ciò che vi racconto solo per quello che è il mio vissuto, che non potrà mai, in nessun caso, descrivere anche il vostro. La prima manifestazione, la più evidente e più complessa da gestire della mia neurodivergenza, è la difficoltà nei contesti sociali. Quando ero ancora un bambino, questa si manifestava nel mio totale disinteresse verso i miei coetanei e la mia sofferenza anche quando dovevo rimanere da solo con loro. Io volevo interagire e parlare solo con gli adulti. Mi ha raccontato mia mamma che all'asilo le maestre erano preoccupate perché spesso me ne stavo in disparte, rannicchiato in un angolo della stanza oppure mi mettevo a dormire per non dover parlare o giocare con gli altri bambini. E ricordo ancora quanto male stavo ai centri estivi, per me era una tortura davvero. Inoltre avevo interessi molto diversi dai miei compagni, ero molto eloquente e forbito nel parlare per la mia età. Passavo molto tempo a pensare da solo, a leggere o a giocare immaginando cose. Da ragazzino e adolescente ho smesso di piangere perché ero in mezzo ai miei coetanei, per fortuna, ma mi è sempre stato difficile gestire i contesti di gruppo e mi sono sempre sentito molto solo, come se le persone della mia età non mi capissero e io non capissi loro, non riuscissi ad entrare in sintonia e a capire le loro emozioni e i loro comportamenti, con pochissime eccezioni. Qualche amica, qualche amico speciale con cui sviluppare magari un rapporto intenso, ma poco di più. Preferivo quasi sempre starmene da solo o comunque in contesti appartati e con poca gente. Mi sforzavo anche di scherzare, di andare alle feste e cose del genere, ma dentro ero profondamente a disagio. E spesso mi sembravano assurde le reazioni, i comportamenti, gli atteggiamenti o le scelte di chi mi stava intorno. Proprio non li capivo. Certe dinamiche di complicità di gruppo, soprattutto, mi mettevano molto a disagio. Certe chiacchiere del più e del meno mi risultavano incomprensibili. Quando proponevano qualche attività io fingevo anche di apprezzarla, ma in realtà mi sembrava inutile. La cosa è un po' cambiata con il mondo dei giochi di carte collezionabili, in cui ho trovato persone con la mia stessa passione, cosa che mi permetteva di bypassare il problema sociale per concentrarmi insieme a loro sul gioco. Non è un caso che praticamente tutti i miei più cari amici io li abbia conosciuti così. Con gli anni poi è arrivata l'ansia sociale forte, l'impossibilità di parlare con gli sconosciuti. Mi ricordo di un periodo in cui provavo dolore fisico all'idea solo di parlare al telefono con qualcuno che non conoscevo. La difficoltà a relazionarmi con l'altro sesso, ad esempio ero totalmente incapace di comprendere se interessavo ad una ragazza oppure no. Ed era per me impossibile presentarmi ad una ragazza parlando per primo. E poi gli attacchi di ansia e di panico in mezzo alla gente, tipo a lezione all'università o in fila in mezzo alla calca, in luoghi rumorosi e affollati. L'estrema timidezza e introversione, l'incapacità di conversare o interagire se l'argomento per me non era stimolante. Ad oggi posso dire che sono diventato molto più abile a comprendere le emozioni e i comportamenti altrui e ho imparato anche ad apprezzare parecchio la socialità. Il lavoro che faccio, oltre al percorso di psicoterapia, mi ha insegnato a gestire bene le mie difficoltà sociali, tanto che solitamente, se sono al pieno delle energie, le persone si rendono conto di qualche mia stranezza solo se passano con me diverse ore. Stare con altre persone per me è piacevole ma è estremamente stancante. Mi sfinisce, spesso sento il bisogno di appartarmi anche solo per qualche minuto in una stanza con la porta chiusa per riprendermi. Qualche volta mi nascondo per un po' solo per il bisogno di staccare e rimanere da solo. In generale non desidero quasi mai uscire, anche se poi quando lo faccio ne sono contento e mi sento anche soddisfatto di me stesso, ma preferisco di base sempre stare a casa mia o in un ambiente conosciuto e controllato, con tutte le mie cose disposte come voglio io e organizzate a mia misura. Non gestisco bene le sorprese e i cambiamenti drastici. Potete vederla così, per me stare con le persone o vivere delle esperienze nuove è come un'attività sportiva estrema che può regalarmi soddisfazioni enormi, certo divertirmi, ma anche stressarmi e frustrarmi, ma che in ogni caso devo sempre sforzarmi, convincermi ad affrontare e che non posso sostenere all'infinito perché consuma le mie energie. E più persone ci sono intorno a me e più è faticoso, stressante e complesso da gestire. Tipo, che ne so, le fiere nerd sono una figata, ma dopo mezza giornata comincio a fare una fatica terribile a resistere. Ci sono delle volte, quando magari sono più stanco, che ogni parola o ogni azione che arriva dalle altre persone e comincia a rimbombarmi nella testa, sento come una sensazione di frastuono e confusione terribile e vorrei soltanto chiedere a chi mi sta intorno di non parlare, di stare zitto e lasciarmi da solo. Qualunque cosa mi si dica o mi si faccia intorno in quei momenti diventa un fastidio fisico. E questi sono i momenti più difficili in assoluto, perché sto parecchio male quando succede, mi sento soverchiato e ho bisogno di chiudere tutto e stare da solo, ma al tempo stesso mi sento pure in colpa perché si nota, gli altri lo vedono, che sono insofferente. Riesco a mitigarlo, ma non a nasconderlo e penso di stare sempre facendo una brutta figura o di comportarmi in modo ingiusto e spiacevole nei confronti di chi sta parlando con me e magari lo sta facendo con estrema gentilezza. In generale, anche al di fuori di questi attacchi, devo regolarmi molto ed essere estremamente intenzionale nelle interazioni con altre persone per mitigare o rendere meno evidenti le mie caratteristiche. Ad esempio, se non mi sforzo volontariamente, io tendo a non guardare chi ho davanti negli occhi e a tenere la testa curva. Sento il bisogno di distogliere lo sguardo o di fare altro mentre parlo con le persone. Tendo a dare delle risposte molto secche o a mostrare in modo molto anche troppo evidente quando non mi interessa quello che sto ascoltando o quando sto pensando a qualcos'altro. Ed ecco che ad esempio a scuola, ascoltando le lezioni, dovevo anche per forza disegnare o inventarmi dei giochi o fare mille altre attività. Non tanto perché ero distratto, tutt'altro. I professori mi richiamavano sempre, ma io ero a segno, ascoltavo la lezione, capivo. Semplicemente avevo bisogno di distogliere lo sguardo e di muovere le mani. Su questo poi torniamo. Se la conversazione non è per me stimolante o è finalizzata ad un obiettivo preciso, mi perdo e mi distraggo quasi immediatamente. Non riesco a seguire il filo del discorso. Devo sforzarmi parecchio per non farlo perché so che viene percepito come un comportamento maleducato. E a volte ci riesco, altre volte no. A volte certe conversazioni mi risultano difficili da capire perché non ne riconosco il senso. Mi sembrano vuote, inutili, per nulla interessanti e non so come interagire. Non so che cosa dovrei dire. Per esempio, sembrerà strano o stupido, ma per me è cento volte più faticoso stare a sentire qualcuno che magari mi parla delle proprie vacanze che non tenere una lezione su un tema complesso. Perché non so, non so proprio cosa dire o quando dirlo, non so che domande fare o quale reazione ci si aspetterebbe da me. Ci sono mille altre piccole cose di questo tipo. Il contatto fisico, che in generale non mi piace particolarmente, ma se poi arriva di sorpresa mi blocca tantissimo. E poi la vicinanza mentre si parla. Certi convenevoli, certe introduzioni e discorsi, soprattutto il turno di parola, l'attenzione alle espressioni facciali, alcune espressioni emotive e anche la giusta reazione ad esse. Il fatto di addolcire i propri feedback o le proprie opinioni per non offendere le altre persone. Ecco, queste sono tutte cose che vengono spontanee a molti, mentre per me sono degli sforzi coscienti, ricercati. In gergo psicologico questo si chiama camuffamento, camouflage o masking. Se sono sovra pensiero e non mi sforzo, appaio subito disinteressato, insensibile, stronzo. Tutte cose che non sono affatto, credetemi. Ma se non mi impegno, chi non mi conosce a fondo può farsi proprio questa impressione di me molto facilmente. Da questo punto di vista mi aiuta molto interpretare delle sorte di ruoli, che non significa non essere me stesso o mentire, essere falso, per nulla. Ma semplicemente mettermi addosso in modo volontario delle maschere o dei vestiti che mi aiutano a comportarmi in modo adeguato a un determinato contesto. Degli schemi di comportamento che comprendono anche magari degli aneddoti da raccontare, delle storie, delle battute, delle reazioni che ho interiorizzato e che ormai so eseguire alla perfezione. Per questo riesco a parlare in pubblico o alla telecamera o in live in modo sicuro e sciolto. Perché nel tempo ho costruito questo vestito di ADC, il divulgatore, il professionista, con il suo tono di voce, i suoi gesti, le sue scelte linguistiche. Che poi sono sempre io, o meglio è una versione di me. La sto indossando in questo momento, no, quella maschera. Non sto interpretando un personaggio finto, ma semplicemente una mia incarnazione sicura di sé e a suo agio. È di nuovo il masking. Efficace, ma molto stancante. Un'arma potentissima per me è l'ironia e l'autoironia, scherzando sulle mie stranezze o trasformando magari le risposte secche che mi verrebbero spontanee in delle battute, mitigo l'effetto che potrebbero avere sugli altri. Mi prendo molto in giro da solo, ci provo, ma questo funziona meglio con persone che conosco, perché con gli sconosciuti invece capita magari che mi dicano qualcosa che mi innervosisce o mi offende e improvvisamente divento Ivo ADC. E quando mi incazzo mi intrasformo in una sorta di robot da guerra, freddo e implacabile. Infine, sempre sul tema sociale, ci sono alcune attività che mi paralizzano o nelle quali mi sento veramente estremamente a disagio. Che ne so, il karaoke o le feste con una musica molto forte o quelle situazioni sociali in cui non conosco nessuno e nessuno conosce me. Tipo quando entro in una stanza e c'è un gruppetto di persone affiattate tra di loro che parla e io non so se e come interagire con loro. Sono contesti in cui faccio davvero fatica a stare, mi sento molto in imbarazzo, nervoso, ansioso e poi l'unica cosa a cui riesco a pensare è di fuggire. Poi ci sono le stereotipie, movimenti e comportamenti ripetuti. A livello motorio per me sono le mani. Io non dondolo, ma a meno di non sopprimere questo impulso consapevolmente, muovo le mani sempre nello stesso modo, tutto il giorno, tutti i giorni. E anzi, ho una serie di movimenti specifici per specifici contesti e situazioni. Al ristorante, che ne so, gioco con i tappi delle bottiglie, sempre nello stesso modo, facendo sempre gli stessi movimenti. Ho degli specifici oggetti sulla scrivania che muovo in un modo specifico. Ho un mio set di Geomag in cui a rotazione alterno delle forme precise che tengo in mano mentre lavoro. Ecco, questa è una delle mie preferite. E tutto questo è tecnicamente una forma di steaming. Poi scrocchio di continuo le dita, faccio girare oggetti tra le dita. Ho costantemente in mano giochini vari come fidget spinner, palline antistress, ma anche oggetti comuni che per qualche motivo mi danno una sensazione tattile che apprezzo. E per questo li accumulo, li colleziono e diventano parte dei miei infiniti giochicchiamenti giornalieri. Quando sono in live su YouTube, voi per esempio non lo vedete, ma fuori dall'inquadratura io sto sempre muovendo qualcosa. Quando parlo al telefono e non posso muovere le mani perché magari ho il telefono in mano, non riesco a stare fermo e allora mi alzo dalla sedia, cammino e comincio a girare in tondo. Poi scarabocchio tantissimo, sempre le stesse forme. Spesso eseguo sempre gli stessi movimenti, ho le stesse routine, sempre nello stesso modo, come se fossero dei mini rituali. Tipo che ne so, mettere le bottiglie in frigo in uno specifico ordine. Le bottiglie più fredde che sono in frigo da più tempo vanno a destra, poi in progressione decrescente di freddezza verso sinistra. Oppure mangiare da un barattolo di yogurt sempre a partire da destra verso sinistra. Ho tutti dei miei modi precisi, specifici con cui faccio le cose quotidiane. Tutto quello che non rientra nelle mie manie, nelle mie stereotipie invece è il caos più totale. Per cui ci sono alcune cose che per me devono essere in ordine assoluto, altrimenti vado in tilt e tutto il resto invece lo ignoro di brutto e diventa uno zoo. Le stereotipie si manifestano anche sotto forma di interessi iperfocalizzati e maniacali. I miei gusti alimentari per esempio sono estremamente costanti, mangerei sempre le stesse cose ad ogni pasto ogni giorno senza nessunissimo problema. Questo sono io che compro un intero blocco di tacchino che in quel periodo mi durava una settimana. E poi i vestiti, mi metterei sempre la stessa roba addosso, devo costringermi a cambiare. La mia vita poi è stata caratterizzata da vere e proprie passioni diventate ossessioni. Da piccolo potevo passare, che ne so, dieci ore di fila a giocare con i Lego senza mai alzare la testa, oppure mi appassionavo di un tema e pensavo solo a quello, parlavo solo di quello, leggevo e ascoltavo solo di quello per settimane o mesi. È molto difficile questo da descrivere a chi non la prova questa sensazione, ma diventa totalizzante, cioè pensi realmente, ma credetemi, letteralmente solo a quella cosa ogni minuto del giorno in cui sei sveglio. E mi è successo con gli orologi, con i modellini robot di Gundam, con la palestra, con i Pokémon, con le tecniche di memoria, con le arti marziali, con i giochi di carte, con la giocoleria, ma anche con il tema del metodo di studio. Non riesci più a fermare i pensieri. Quando vi racconto che sono stato dieci anni a pensare ai temi di cui parlo in questo canale, lo intendo in senso letterale. Quando mi fisso su qualcosa mi risulta estremamente difficile staccarmene, al punto che diventa a volte invasivo nel resto della mia vita. Io devo costringermi a non pensare alla mania del momento prima di dormire, ad esempio, se no non mi addormento più. Devo spingere via quei pensieri della mente, altrimenti non riesco ad avere una conversazione. Questa è una di quelle caratteristiche che sono anche riuscito a avvolgere a mio vantaggio. Quando sono riuscito a far coincidere una mia mania con un lavoro vero, beh, sono riuscito a esercitare un focus e una costanza che tantissimi non avrebbero mai potuto mantenere. Di contro, questo può essere davvero sfibrante e pesante da sopportare per chi mi sta intorno, perché quando sono preso da una mania tutto il resto passa in secondo piano. Connesso a questo c'è il tema della noia, che io definirei assoluta, e dell'horror vacui. Mi sembra più quello che chiamavano in latini, horror vacui. Guarda, penso che tu abbia centrato il punto. Non riesco a stare senza fare qualcosa, e se sono costretto a svolgere un'attività che non mi cattura, che non diventa una mia mania, o che non riempie la mia necessità costante di stimolo e coinvolgimento intellettuale, io mi stufo, ma a un livello che davvero si fa fatica ad immaginare. Non è noia e basta, definirla così sarebbe sminuirla. È insofferenza totale. È una sensazione fisica, come elettrica, come se avessi degli insetti sotto la pelle che mi impediscono di stare fermo, come se fossi fermo al semaforo in folle con la macchina, ma con l'acceleratore schiacciato a manetta. Divento inquieto. E purtroppo questa cosa oggi alimenta la mia dipendenza dal cellulare. Ma quando gli smartphone non esistevano ancora, mi comportavo nello stesso modo con i libri, con i fumetti, con i giochi, con i disegni, o con qualunque altra cosa mi aiutasse a gestire questa insofferenza. Così come sono capace di esercitare focalizzazione assoluta e di entrare in stati di flow totale, allo stesso modo quando non sono immerso in qualcosa che mi interessa, sono perennemente distratto. Perennemente con la testa fra le nuvole. E penso ad altro, rimugino moltissimo e ho anche episodi di daydreaming invasivo. Un po' come JD in Scrubs, cioè mi ritrovo a visualizzare scenari nella mia mente che mi portano ad essere alienato dal contesto in cui mi trovo in quel momento. La distrazione e il daydreaming si trasformano in goffaggine. E allora vado a sbattere di continuo, inciampo, casco per terra, perdo la roba, mi cade la roba dalle mani, mi dimentico le chiavi, mi chiudo fuori di casa, faccio la spesa e poi mi accorgo di non avere il portafoglio, dimentico dove ho parcheggiato, ma sul serio, tipo che poi passo mezz'ora a cercare la macchina, non so mai che giorno sia, mi macchio mentre mangio, dimentico di portare fuori la spazzatura, faccio casini burocratici e cose del genere. Dall'altra parte però, quando sono coinvolto invece, sono estremamente attento, sono pignolo, creativo, analitico, preciso e questo nel lavoro, ad esempio, mi ha dato una marcia in più. Se non ho un piano da seguire, un'organizzazione serrata o un obiettivo chiaro in mente, le mie giornate diventano disordinate, pigre, strane, mi si sfilacciano tra le mani, arriva sera e non saprei dire che cosa ho fatto durante la giornata. Ed è per questo che per me il master plan, la mia tabella di time blocking è tanto importante. Non è raro che le giornate più difficili per me da gestire siano quelle in cui non ho qualcosa di stabilito da fare, perché finisco per imbruttirmi, mi perdono i miei pensieri. E qui accade il paradosso. Se è vero che sento forte il bisogno di stare da solo e che la socialità mi stanca molto, d'altro canto, se passo troppo tempo da solo, regredisco, mi perdo in questi loop mentali da cui fatico ad uscire. Il contatto con gli altri mi costringe a darmi un po' di ordine, di disciplina e alla fine quindi mi fa anche stare bene. Quando il mio sistema di organizzazione però è preciso e i miei obiettivi sono allineati, sono una macchina da produttività e ho una capacità di lavoro impressionante. Per questo un metodo di studio strutturato, la pianificazione precisa, degli strumenti di produttività affidabili, la gestione dello stile di vita, tutte queste cose che io vi racconto qui sul canale o che poi ho trasformato in libri, in corsi, hanno fatto così tanto la differenza nella mia vita, una volta applicate alla mia vita. Perché pur non essendo dei metodi pensati nello specifico per chi si rivede in queste caratteristiche, ci si adattano molto bene e aiutano a dare una struttura alle mie giornate. Metafora nerd. Sono come Ciclope, il mutante della Marvel, avete presente? Di mio sono un disastro, non riesco a gestire il mio potere, sono costretto a tenere gli occhi chiusi perché se li apro faccio macelli e sparo laser da tutte le parti a caso. Ma se mi dai un paio di occhiali irregolanti costruiti apposta per me, divento il leader degli X-Men. Queste sono le caratteristiche principali, ma poi ci sarebbero milioni di altre cose da raccontare, che ne so, mi fa impazzire quando metto una cosa da qualche parte e poi qualcuno me la sposta e non la trovo, ho dei momenti di rabbia terribili, ho una grande sensibilità a certi ronzii sonori, tipo i caricabatterie del cellulare. Quando entro in una stanza, so immediatamente in quale posto vorrei sedermi, generalmente in angolo. E poi colleziono oggetti di ogni tipo, mangio ipervelocemente perché sento molto poco i sapori, ma tantissimo le consistenze del cibo. Quando sono sovrappensiero, confondo la destra con la sinistra, non sopporto proprio le conversazioni lasciate a metà, mi fanno proprio male, perché poi non riesco a smettere di pensarci. Qualcuno ha detto discussioni infinite nei commenti di YouTube? E potrei andare avanti per ore. Voglio riprendere per un secondo il tema della diagnosi, della definizione, dell'etichetta che sono andato a cercare per me e che all'inizio mi ha messo anche in difficoltà. Il tema dell'opportunità della diagnosi è complesso e lo affronterò in futuro con professionisti seri, perché non ne so abbastanza. C'è chi dice che sia utilissima, chi ne sottolinea i rischi, chi lamenta un fenomeno di sovra-diagnosi e chi di sotto-diagnosi, chi dice che dare etichette significa sminuire l'individualità e chi invece sostiene che definire e circoscrivere le situazioni aiuti a comprenderle, ad accettarle, ad escriverle e a gestirle. Io dal canto mio posso soltanto dirvi quello che provo. Intanto, per come sono fatto, una volta che mi è entrata la pulce nell'orecchio, non esisteva alcuna possibilità se non quella di andare fino in fondo. La curiosità e l'incertezza mi avrebbero distrutto, quindi molto meglio affrontare tutto di petto. E poi, passato un pochettino di stordimento iniziale, devo dire che sono contento, perché è come se fossi riuscito a dare un senso a tante esperienze della mia vita che prima per me erano solo bizzarre. Oggi sono un adulto molto sicuro di sé e delle sue capacità, ma prima sono stato un bambino e un ragazzo estremamente incerto, insicuro, fragile, pieno di dubbi, di paranoia, di difficoltà che non sapeva come gestire. Mi sono sentito per tutta l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza strano, fuori posto, qualche volta pure sbagliato, sprecato, fallito. Ecco, forse a quel bambino e a quel ragazzo la consapevolezza che ho adesso avrebbe fatto comodo. Avere una diagnosi certa può aiutare anche a cominciare ad essere più gentili con se stessi, la famosa self-kindness, e a capire che possiamo chiedere a chi ci circonda di venirci in conto, soprattutto le persone che ci vogliono bene. Non deve diventare una scusa per non cercare di migliorarsi e di sforzarsi, assolutamente no. Ma non c'è niente di male nel chiedere ad una persona che ne so, di non abbracciarci se questo ci fa sentire a disagio o nel chiedere una mezz'ora di pausa perché si ha il bisogno di riprendersi da un momento difficile o nello spiegare che non è per disinteressi o per maleducazione se si guarda da un'altra parte durante una video call. Chiedere comprensione e supporto se fatto in modo educato e senza prevaricare gli altri va benissimo. Del resto, le persone intorno a noi non possono sapere come venirci incontro ed essere inclusivi e inclusive se non glielo spieghiamo. Quello che so adesso è che ciò che ho vissuto non è strano, non è fuori posto, non è sbagliato e non è neanche poi così raro. È una semplice manifestazione dello spettro dell'autismo in cui mi colloco io come altri milioni di persone. E sapere questo non è poco. Credetemi. Devo semplicemente accettare quello che non posso cambiare e lavorare sodo ogni giorno per affinare le mie capacità e per sfruttarle al meglio. E se ci pensate alla fine questo è quello che deve fare chiunque, neurodivergenza o meno. Ognuno di noi ha un set di qualità positive, di difetti, di stranezze, di talenti, di inclinazioni, di esperienze, di gusti, di unicità e deve fare di tutto per combinarci qualcosa di buono. Tutto qua. Nel mio caso qualche volta queste manifestazioni autistiche mi tornano comode. Altre volte mi mettono i bastoni tra le ruote, altre volte non hanno alcuna conseguenza. Qualcuno si fa una brutta impressione di me a causa delle mie caratteristiche, altri sono simili a me, altri trovano questi aspetti interessanti, ad altri magari stimolano compassione, altri ancora se ne sbattono. E va bene così, a me questa diagnosi in questo momento della mia vita alla fine ha fatto bene. Mi ha dato degli strumenti in più per capirmi, mi ha sensibilizzato verso un tema sociale su cui non avevo ragionato a fondo e mi ha pure fornito degli spunti per provare a dare una mano a qualcun altro con questo video e con i prossimi che farò in merito. Risultato eccellente. Chiudo così. Che siate neurodivergenti oppure neurotipici, autistici, plus dotati, ciclisti della domenica, DSA, ADHD, interisti, juventini, milionari di Dubai, ascoltatori di trap, seguaci di Rick Dufer, o qualsiasi altra cosa non ha importanza. Perché il consiglio è lo stesso per tutte e per tutti. Fate ogni cosa possibile per conoscervi meglio, per migliorarvi nel tempo e per valorizzare ciò che avete e ciò che siete. Il resto andrà bene. Ah, e se volete approfondire in descrizione vi lascio un po' di bibliografia interessante. A presto.